Lois, roba da non crederci! Meg ha appena detto Dada! Le sue prime parole! Poi si è alzata in piedi da sola e ha cominciato a camminare! I suoi primi passetti! Sì! Ma che cacchio ci fai qui in cucina? E vai! Prima solo di batteria! Prima solo di batteria!